Buongiorno, parliamo oggi di fonosintassi e distinguiamo subito i fenomeni fonosintattici in fenomeni che determinano la quantità vocalica e o sillabica, fenomeni che evitano l'oiato e fenomeni che modificano la sede di accento. Ognuna di queste tre categorie si suole distinguere a seconda della natura fonetica o prosodica del fenomeno. I fenomeni che determinano la quantità vocalica e o sillabica si sogliono distinguere in fonetici quali allungamento, apofonia, brevis, brevians o abbreviamento giambico, consonante caduca e prosodici che si riducono al solo fenomeno della consonante caduca. I fenomeni che evitano l'oiato anche qui si distinguono in fonetici e prosodici. Sono fonetici la contrazione, la dittongazione, la sinecfonesi, la sinizzesi, l'abbreviazione in iato e la conservazione dell'oiato. Mentre sono fenomeni prosodici la sineresi che è uguale alla sinecfonesi che abbiamo visto ma riguarda segmenti di estensione maggiore rispetto al singolo fonema, la sinalefe, la vocalis ante vocalem corruptur, la conservazione dell'oiato, la diesi e infine la dialefe. I fenomeni infine che modificano la sede di accento si distinguono in, ancora una volta, in fonetici e prosodici. Sono fonetici l'apocope, la sincope, l'elisione, la feresi, la prodelisione, mentre sono prosodici la feresi e la prodelisione, un'altra forma di prodelisione. Vediamo all'apofonia. Dicesi apofonia l'alternanza di vocali di diversa quantità o qualità vocalica di un morfema. Distinguiamo un'apofonia indoeuropea da un'apofonia meccanica. L'apofonia cosiddetta indoeuropea è la marca morfologica che altera il valore sintattico e semantico della radice. qualitativa, l'apofonia che interessa il solo timbro vocalico, mentre quantitativa quella che comporta una modificazione della lunghezza vocalica. Poiché i due fenomeni si presentano almeno teoricamente in continuità, danno luogo alle seguenti due serie. L'una quantitativa ordinata, cioè secondo la lunghezza o durata della vocale in tre gradi, e l'altra qualitativa articolata, secondo la qualità o il timbro in quattro gradi. Secondo la lunghezza, distinguiamo dunque nella apofonia quantitativa i tre gradi. Zero, normale e allungato. Il grado zero è corrispondente ad assenza di vocale. Il grado normale si distingue in ridotto corrispondente ad A breve, medio corrispondente a E breve, e forte corrispondente a O breve. Il grado allungato è scandito in ridotto corrispondente ad A lunga, medio corrispondente ad E lunga, e forte corrispondente ad E lunga, corrispondente a O lunga. Secondo invece la quantità o il timbro, distinguiamo nella apofonia qualitativa tra quattro gradi, che sono il grado zero, corrispondente ad assenza di vocale, il grado ridotto, suddiviso in normale, corrispondente ad A breve e allungato, corrispondente ad A lunga, medio, a sua volta ripartito in normale, corrispondente ad E breve e allungato, corrispondente ad E lunga, e infine forte, grado forte, diviso in normale, corrispondente ad O breve e allungato, corrispondente ad O lunga. Si noti che taluni temi nominali in occlusiva presentano vocale apofonicamente allungata nel nominativo singolare e vocale normale negli altri casi. Un esempio può essere il termine latino per indicare il piede, che è pes, pedis, o ancora per esempio paris, parietis, con apofonia quantitativa. Ancora, si noti che i nomi nenni associavano all'allungamento della vocale tematica la caduta della nasale, come avviene per esempio in caro, carnis, che vuol dire carne, benché comunque il latino abbia generalmente portato a termine il processo di livellamento analogico dei paradigmi. Passiamo adesso al tipo di apofonia che definiamo meccanica, che è invece un fenomeno fonetico privo di conseguenze sul piano sintattico o semantico, riguardante solo le vocali brevi A, E ed O, in sillaba aperta iniziale o finale di parola, le quali si chiudono rispettivamente in I, ancora in I, ed in U, brevi, nel caso in cui, a seguito di suffissazione, composizione o derivazione, vengano a trovarsi in sillaba interna aperta. Nel caso di sillaba chiusa, la consonante finale della sillaba impedisce il verificarsi del fenomeno, benché in situazioni eccezionali la apofonia meccanica possa essere operativa anche in sillabe chiuse, come la seconda ultima del presente indicativo derivato, attingo, da tango, tangere, ovvero toccare. Non si verifica mai però in amo, amare, ed edo, mangiare, e in tutti i loro composti e derivati. Facciamo a riguardo due esempi. Uno dei derivati di faccio, ovvero fare, caratterizzato da vocale A breve in sillaba iniziale, in composizione con prefisso, per esempio, ad, diviene afficio, ok, con la vocale radicale mutata pofunicamente da A a I breve. Il verbo DO, dare, presenta invece forme morfologiche diverse a seconda che sia sciolto o in composizione, sicché il sopradigma nella forma assoluta sarà DO, DAS, DEDI, DATUM, DARE, ma DO, DIS, DIDI, DITUM, DERE, in composizione con un prefisso. Passiamo adesso a un altro fenomeno che è quello di una breviazione giambica, anche detto correzio iambica, o legge della brevis brevians, consiste nell'abbreviamento della sillaba lunga di una successione giambica di sillaba breve seguita da sillaba lunga, se la sillaba breve è accentata. Un esempio è modo, l'ablativo modo, con entrambe le o brevi, da un originario modo, con seconda o lunga. Quindi abbiamo visto che, vediamo che il fenomeno è semplicissimo e subito individuabile. Passiamo al fenomeno della consonante caduca. La S e la M, finali di parola precedute da vocale breve seguite da consonante, non fanno posizione e non provocano l'allungamento della vocale breve precedente per posizione in virtù di una consuetudine fonatoria impostasi già in età arcaica. È usata dai poeti come spediente prosodico ancora in epoche successive, secondo la quale tali consonanti S ed M in questa posizione tendevano a non essere pronunciate. Analizziamo ancora un altro fenomeno che è quello dell'afferesi, che consiste nella caduta di un corpo fonico all'inizio di parola. Il fenomeno particolare di afferesi è l'afferesi con crasi, consistente nella caduta della vocale E, delle forme della seconda e terza persona singolare del verbo essere, cioè es ed est, è conseguente crasi con la parola precedente. Il fenomeno si verifica quando la parola precedente termina in vocale di timbro più scuro, dunque in A, in O, oppure in U, oppure anche in vocale di timbro uguale, quale dunque è semplice o anche seguita da consonante debole M. Così abbiamo delle formazioni come il celebre Formosast, scritto tutto unito in catullo nell'86esimo canto, da originaria locuzione Formosa Est. Passiamo adesso ad un ultimo fenomeno molto particolare e degno di menzione, che è il rotacismo, dal nome greco RO della consonante liquida corrispondente alla nostra R. Il rotacismo consiste nella sonorizzazione e successiva mutazione AR di esse intervocalica. Tale fenomeno si attesta a partire dalla prima metà del IV secolo a.C., scemando progressivamente. Non attecchisce mai, in parole di origine non indoeuropea ma mediterranea, in parole di epoca tarda per indebolimento del fenomeno, in parole che presentano s intervocalica in seguito a processo di scempiamento di nesso sibilante duplice, ss, come nella parola causa, proveniente da un originario causa, con doppia s, in parole di origine greca, quale basis, giunte in latino come prestito e infine nei verbi, benché sia sempre operativo nei preverbi. Per analogia si estende invece a consonanti s non intervocaliche, come il nominativo del termine latino per onore che è honor, proveniente però da un onos non attestato per influsso del genitivo honoris. Stesso fenomeno nel nominativo arbor da originario arbos, per analogia del genitivo arboris, dove il rotacismo era un coerente esito di s rotacizzata. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione!